Salve a tutti e benvenuti in questo vlog vacanze in Italia Oggi ritorniamo su vacanze in Italia, quindi in estate 2022 Quindi oggi è venerdì 24 giugno e sono le 11 Sì, devo andare a vedere la ruota panoramica Ma se ci giriamo qua, andatelo Da casa si vede la ruota panoramica, guardate Che faccio qua? Si vede la ruota panoramica Allora, proprio davanti qua, guardate Vedere un attimo di sera, come era di sera, di notte, che era illuminato Cioè l'inaugurazione era stata proprio ieri, giovedì 23 giugno Quindi stasera vogliamo andare a vedere da vicino come è illuminato Grazie a tutti 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 Mi assolutamente Attica a tutti Ieri Qu'è uno Ti sentimo guardate è alta 55 metri sono tre chilometri da qua ho visto su google maps sono tre chilometri un po' Grazie a tutti 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 Venerdì Grazie a tutti